Con un azzardo politico nel pieno delle sue prerogative, Macron è riuscito a sbarrare la strada all'estrema destra di Marine Le Pen, sciogliendo in tutta fretta l'Assemblea Nazionale. Adesso si trova un'altra gatta da pelare, impedire che il tribuno Melanchon si prenda il governo? Il tribuno Melanchon non può prendersi il governo, né se lo prenderà, perché la nomina del primo ministro compete al Presidente della Repubblica, i cui poteri, come è noto in Francia, sono i stessissimi. Non so se il risultato elettorale coincida davvero con le aspettative politiche di Macron, temo fortemente di no, perché il dato fondamentale di questo voto è che l'autorità presidenziale, finora fonte assoluta del potere nella Quinta Repubblica, è oggi fortemente indebolita e la Francia riscopre gioie e dolori della Repubblica parlamentare. Oggi i governi non si fanno più all'Eliseo, come è successo fino al 2022, oggi i governi si faranno lì, a Palais Bourbon, nell'Assemblea Nazionale, e quindi è una perdita secca di potere per lui. Quindi di fatto c'ha ragione Giorgia Meloni, quando dice al di là dei toni vittoriosi della sinistra, del nuovo fronte popolare, però in Francia non ha vinto nessuno e quindi proprio perché toccherà al Parlamento individuare delle alchimie per dare una maggioranza, di fatto il voto ci consegna una instabilità molto complicata. Questo è assolutamente... Della dichiarazione, dell'affermazione della Presidente Meloni, ci sono due punti. Uno è assolutamente evidente, in Francia nessuno può cantare vittoria, ma l'altro è assolutamente invece contestabile, laddove dice che non si parla della sconfitta del Rassemblement Nazionale. Il Rassemblement Nazionale ha subito una sconfitta durissima e inattesa e ha dimostrato che la Francia, la Francia nel suo complesso, mantiene ancora un cordone sanitario verso un partito che a dispetto di tutti i tentativi di maquillage, i francesi continuano in grande maggioranza a considerare l'erede dei traditori di Viscina. E quindi c'è questa pregiudiziale che rimane viva e vegeta. È molto interessante, vedo che sia con le...